Ma do una botta, così la pulisco un poco questo lavandino, no? Dico, ma gli do una bella botta e ho aperto, così cadeva la paddotta. Beh, apro l'acqua, non vuoi che si udda il lavandino? E non si sbuggiava, non si sbuggiava? Allora giù dito, ma prendo il ferro e lì carco, così cazzo, non ho poco questi pili. Beh, poi scoppio il sifone. Ah, mi sta acqua! Acqua, acqua in tutto un bagno, capisci capia? Ah, si è bloccata la porta, non riuscì a acqua, ha cominciato a bussare l'acqua e dico, no, oddio, che brutta fine, morirò come i due amanti del Titanic, morirò annegata, oddio, mi ritroveranno tra tanti anni, sotto sotto gli abissi del mare, che brutta fine, per fortuna con un guizzo ha giù spaccato la porta, sussuta da fuori, giù chiuso. E perché si è sussuta? Eri dovuto rimanere da dentro, con chiudere la chiave, con la mia chiave pure, e ne erano liberati oggi. E già era morta? Ma certo! Per favore, veni giù, sta meno flessibile, dai, me lo capulito, mi fai, me lo capulito. Allora, e ci faccio i traulico io? Eh? Tegna faccia dei traulico? No. E allora? Tu non fai idraulico, tu non fai niente, tu sei invalido, dalla testa ai piedi, soprattutto al centro, già non c'è vita più, eh? Manco si chiamano un pronto intervento, niente, lo stiamo perdendo! Mamma, guarda se me ne va, se me ne va, perché oggi se no veramente, guarda, disgraziato! Grazie!